Buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'analisi ciclica e evoluta della giornata del 18 maggio. Che cosa è successo oggi? Facciamo un bel recap. Allora, come d'aspettative già date venerdì, ero rimasto in Overnight e caspiterina quanto ha pagato bene a rimanere in Overnight. Successivamente, dato che avevo segnalato che si poteva andare in tendenza per la partenza di un nuovo, non soltanto T, ma T più 2, avevo già dato anche nell'analisi weekly i target che dovremmo raggiungere, ovvero quest'area qua attorno a 10.690, successivamente questa a 10.888 e poi eventualmente andare sopra comunque il massimo a 10.986, anche perché poi il nostro target finale sarà questo, 10.235, sopra 11.235. Cosa ha fatto oggi? Wow! Ha fatto una sparata su che neanche quando aveva iniziato il 14 maggio a muoversi verso l'alto ha fatto. Chi ha provato ad andare short, ahimè, purtroppo, senza conoscere l'analisi ciclica e evoluta, si è fatto molto male e noi abbiamo continuato a salire. Per cui, dopo aver chiuso più o meno in questa zona qua il primo long, abbiamo aspettato la formazione, e adesso ve la faccio vedere più con precisione, allargando il grafico. Abbiamo aspettato la nostra creazione del nostro solito swing, ovvero quello a 10.781, e siamo andati long qui, su questa candela qua. Sali, 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 siamo arrivati a uno dei target che poteva essere interessanti e che avevo dato come algoritmo 10.845. Ha iniziato a traccheggiare e guardate caso, leggermente sopra, andava a sbattere costantemente, un pochino sopra quello che avevo dato. successivamente attendevo almeno la partenza di un T-5 inverso per andare a chiudere il terzo T-3 giornaliero e poi eventualmente anche il sesto T-3 inverso. Invece, c'è scappato su. Ma attenzione, come al solito, dopo un long ottima, un secondo long ottima, ci si può accontentare durante la giornata. Il gain è quasi arrivato a 1000€, per cui va bene così, ok? E oltretutto fa piacere che le analisi fatte nel weekend e i target dati siano stati tutti presi, costantemente. Chissà cosa ne penserà la persona che continua a mettere la manina con il pollice all'ingiù. Non lo so, fatti suoi, io intanto incasso e vado avanti. Per questo, però, vi faccio una piccola ipotesi. Dato che qui siamo arrivati, qui non è possibile che sia andato a chiudere il secondo T-3, ok? Qui siamo a 44 barre, ma in realtà la più piccola è qua, quindi è difficile che abbia fatto così. Per ora rimarrei all'ipotesi di 24 barre, chiusura qui del secondo T-3, partenza del terzo T-3, perché come detto, appunto, qui ci starebbe anche, ma è troppo corta la chiusura, qui c'è un doppio minimo a 10.888 e a 10.888, quindi anche qui potrebbe starci effettivamente a 43 barre la chiusura. Mettiamoci un punto di domanda, ok? Verso le 16. Facciamo così, per sicurezza. Ora le 16 e 15. Cosa è partito? Vediamo. Anche perché è stato molto forte come partenza, per cui, teniamocelo sott'occhio, può essere qui che effettivamente abbia chiuso. Però se qui avesse chiuso il secondo T-3 a 43 barre, questo non sarebbe il terzo T-3. E dovremmo spostare la partenza del terzo T-3 qua. Stessa identica cosa qua. Da questo massimo qui non poteva chiudere niente, a 20 barre, che invece era la cosa che speravo. Un piccolo ritracciamento per rientrare long. Qui siamo arrivati a 24, quindi domani potrebbe esserci un'apertura in gap down, oppure eventualmente un'apertura con poi discesa, almeno per un T-6, oppure qualcosa di più, se si vuole andare già a chiusere il terzo T-3, e vedremo. Per quanto riguarda l'inverso, molto semplice, da qui in realtà ci prendiamo qui il massimo a 10.783, per ora siamo arrivati a 27 barre. E quindi anche questo ci fa pensare che potrebbe aver tranquillamente chiuso il rialzo, o potrebbe andare avanti fino a 44, ma se avremmo una forte discesa, una discesa un pochino interessante dopo tutta questa sparata qua, perché siamo andati da 10.679, quindi 10.7 a 11.100 quasi, quindi 400 punti dopo il gap up, vedremo, magari qualche cosina ritraccerà, noi valuteremo se rientrare long e posizionarci di nuovo per, facendo attenzione più che altro alla chiusura del primo T-1, che potrebbe venire a 3 tempi, o a 4. Faccio notare che siamo andati anche in golden cross, quindi giornata da incorniciare, per quanto riguarda il Fuzzimib, nonostante una partenza estremamente stentata, stessa identica cosa, tutto a rialzo, con violazione peraltro di vari swing importanti, primo di tutti questo, che ci fa pensare che qui non sia partito soltanto un nuovo T-3, ma un nuovo T, e come tempo ormai tranquillamente ci sta, e che se dovessimo di nuovo andare a fare due conteggi, da qui a 29 bar ci sta la prima chiusura, oppure qui magari ci sta quella effettiva, vediamo se ci sta come bar, perché non ho ancora controllato, 44 ci sta, e qui sta partendo il terzo T-3. Qui ci sta che il terzo T-3 stia partendo alle 16.30, davvero tanto rispetto all'alto dove c'è stato un doppio minimo, ma il doppio minimo va bene, è comunque un ciclo tra virgolette ribassista neutro, e oltre il neutro, per cui guardando qui il Fuzzimib, mi viene voglia di mettere la partenza appunto del terzo T-3 da là. Vedremo un attimino, anche qui stiamo provando ad andare in Golden Cross, e abbiamo staccato di parecchio tra l'altro la media mobile a 50 periodi, siamo andati sopra quella 200, e abbiamo superato il livello superiore della Kumo, e abbiamo violato il swing come detto, quindi da qui sta partendo un T settimanale o qualcosa di più, che ci porterà probabilmente piano piano nel corso della settimana sopra i 17.678. Qui soltanto va rivista sicuramente la centratura a livello di inverso, perché saremo arrivati a 11T-3, quindi o parte un inverso con una bella discesa prima, oppure va rivista e va, diciamo, rimessa al pari con quella del DAX. Ve la faccio vedere per sicurezza, perché intanto anche qui, anche se potremo tornare comunque ad utilizzare il Fuzzimib, perché effettivamente dalla mezzanotte di questa notte verrà revocato il divieto di andare short su Fuzzimib, per sicurezza per ora continueremo a valutare di utilizzare il DAX per tutte le nostre cose, per cui preparatevi i livelli di algoritmo, vi posso dare su entrambi i livelli, ma soltanto a chi valuta effettivamente di spendere molto più tempo con me nel gruppo Facebook Premium. Per gli altri mi dispiace, ma questa è tutta formazione gratuita che nessun altro vi dà con questo dettaglio e soprattutto nessun altro vi dà in termini di risultati, penso. Poi, se trovate persone migliori, assolutamente, potete tranquillamente seguire loro. A me interessa, come detto, prima di tutto dimostrare che l'analisi ciclica evoluta conta più di qualsiasi altro tipo di analisi, nel senso che continua a evolvere e che funziona molto meglio che fare trading con le news, perché qui la gente stava cercando di capire che tipo di notizia era stata data. Si stava festeggiando che non era possibile andare short da domani? Ho ironizzato così con le persone che mi seguono e sui vari gruppi trader che ho e con gli amici di trader dei vari gruppi anche chat di Whatsapp, che sono privati, non c'entrano con il resto, perché ci sono tantissimi gruppi. Però, con un piccolo scherzo si può far capire quanto nella realtà dei conti sia veramente sciocco e soprattutto poco profittevole operare in base all'aspettativa di notizie. Qui già con un gap up non si sapeva a che cosa attribuire la cosa, qui si poteva provare ad andare short dopo una bella salita, anche perché non è che avesse grande forza, come detto, e invece si è continuata a salire. Perché? Perché qui sta partendo probabilmente un nuovo T2 mensile e quindi ha bisogno di tutto un T settimanale rialzista, eventualmente laterale rialzista e quindi noi non siamo arrivati neanche a un pezzettino del T settimanale e quindi ci può ancora essere una forte spinta per andare anche in questo caso sopra i 17.665, esattamente come detto nell'analisi ciclica voluta del weekend. Vi ringrazio per l'ascolto, non la faccio troppo lunga e vi auguro una splendida giornata.